Piero Manzoni Tutto il mondo conosce Piero Manzoni per la sua merda d'artista. Una parolaccia dentro un'opera d'arte dal pesonetto di 30 grammi, che vale come 30 grammi d'oro. Cosa ci ha voluto dire Manzoni con la sua arte? Piero nasce a Soncino nel 1933 e con la famiglia è solito passare le vacanze estive in Liguria, dove le trascorre anche l'amico dei genitori, Lucio Fontana, artista di punta dello spazialismo. L'esordio nel mondo dell'arte è all'insegna del surrealismo, ma presto si avvicina all'arte informale, dipingendo sagome umane e impronte di oggetti. Presto però scopre che la forma d'arte lui più congeniale non è la pittura, ma la performance. Nascono inoltre i primi oggetti concettuali, pensati non per appagare l'occhio, ma per provocare e far riflettere con ironia sul ruolo dell'arte, dell'artista e del valore che la firma di quest'ultimo paradossalmente riveste su un'opera, che spesso viene stimata tanto solo per la fama del suo artefice. Progressivamente Manzoni cerca di ridurre al minimo il suo intervento autoriale, eliminando il colore ed esponendo spesso solo i materiali scelti. Ne è un esempio la serie degli Acrom, dove protagonista è la tela resa bianca dal caolino. Altre opere invece coinvolgono lo spettatore, per esempio in Uovo Scultura, Uova Sode, su cui Manzoni appone la propria impronta digitale, per poi farle mangiare. È una chiara metafora del consumo contemporaneo dell'arte, sempre più data in pasto al pubblico. Nel 1959, invece, l'artista fonda una galleria e una rivista che hanno lo stesso nome, Azimuth. La vita di Piero Manzoni viene stroncata precocemente da un infarto. E lo colpisce a nemmeno 30 anni. Tengono vivo il suo ricordo le numerose citazioni nella musica pop e rap, ma anche il vicolo Manzoni a Milano, intitolato a lui perché qui si trova il suo bar preferito, dove si intratteneva a giocare a carte, bere e chiacchierare.